Il pugilato è sicuramente indicato indifferentemente a uomini e donne. Le età sono relative e si può iniziare con un'attività ludico-sportiva che è la fascia dell'attività giovanile iniziano a 5 anni e dopodiché la Federazione Pugilistica Italiana ha permesso un avvicinamento a persone anche fino ai 65 anni che competono secondo regole di un pugilato amatoriale per permettere una diffusione maggiore. La parte più focale è quella dell'attività agonistica vera e propria incentrata sui ragazzi più giovani che combattono a tutto tondo a partire dai 13 anni come di pugili dilettanti e che fanno un percorso di incontri che può culminare anche con un passaggio al professionismo quando ci siano i requisiti di vittorio ottenuto e punteggi ottenuti. Quindi una carriera che dopo mette l'atleta in condizione ideale di avere un sostentamento attraverso questo sport che purtroppo in Italia non è possibile. È uno sport povero per eccellenza. Il CONI, la legge federale sullo sport, non prevede la realtà concreta della box come sport professionale, differentemente ad esempio dal calcio. Quindi chi sceglie questa strada sa che dovrà scontrarsi con una realtà un po' avversa e dovrà faticare di più magari rispetto ad altri atleti ugualmente prestanti ma di altri disciplini.